Insieme siamo partite, insieme torneremo, non una, non una, non una di meno! Non una di meno nasce nel 2016 in seguito all'omicidio di una giovane di 16 anni in Argentina e da allora c'è stata una contaminazione positiva di tutte le donne e non solo donne, ci sono anche ragazzi. Siamo qui a protestare contro il disegno di legge Pilon che riporta al Medioevo le donne e tratta i minori come dei pacchi postali. Siamo qui contro la legge Salvini, la famosa legge sulla sicurezza che ci impedisce di muoverci, che condanna i migranti a situazioni di clandestinità. Siamo qui per scioperare contro tutte le forme di violenza.